Presso l'abitazione privata di Artore, dell'allora Presidente del Consiglio, le ragazze invitate facevano parte di un sistema prostitutivo organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi. A Bersaglio Mobile ci occuperemo della requisitoria della Bocassini, delle reazioni e degli spunti anche di indagine giornalistica che ovviamente fornisce. Lo faremo ovviamente con materiali ed ospiti. Bersaglio Mobile, questa sera alle 21.10, qui sulla Sette.